Giovanna Pons, Protestanti e Libertà, questo è il titolo del nuovo lavoro, del nuovo docufilm che il gruppo teatro del Liceo Valdese di Torrepellice ha realizzato. Si è concluso proprio pochi mesi fa, diciamo poche settimane fa, si è concluso tutto l'iter di lavorazione insieme alla regista Anna Giampiccoli che è venuta a trovarci in studio. Quindi buongiorno Anna, benvenuta e bentornata con noi. Grazie mille. Un personaggio, Giovanna Pons, che avete avuto modo di raccontare e che recentemente è scomparsa che però ha vissuto con te, mi raccontavi prima fuori onda, mi facevo raccontare un po' il dietro le quinte di questo docufilm e Anna tu mi dicevi che l'avete davvero costruito insieme a Giovanna questo docufilm. Assolutamente, io Giovanna l'ho conosciuta in realtà non tanto tempo fa, tre anni fa, l'ho frequentata assiduamente per un periodo andavo a trovarla e davanti a una tazza di tisana fumante mi ha reso partecipe di tutti i suoi ricordi soprattutto di questo primo periodo della sua vita. Giovanna è nata nel 1928, quindi durante la guerra è cominciata la guerra che aveva 12 anni ed è finita che ne aveva 16 grossomodo. quindi aveva dei ricordi assolutamente vivi. In più lei è stata diciamo un protagonista, testimone, inconscia diciamo di un evento storico molto molto importante che è la firma della carta di Richivasso, la dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine che fu appunto redatta il 19 dicembre del 43 a casa sua. A suo padre fu chiesto di ospitare questi sei rappresentanti, gli estensori della carta che provenivano dalla Val d'Aosta e dalle Valli Valdesi, ma in realtà la famiglia era all'oscuro del vero motivo della riunione. la copertura era una seduta notarile, c'era questo notaio Chanou dalla Val d'Aosta e Giovanna aveva dei ricordi molto nitidi di questa giornata insieme a tanti altri appunto ricordi che appunto abbiamo deciso insieme intanto di fissare in una bella e lunga intervista che mi rilasciò nell'ottobre del 22 con l'idea appunto di fare un lavoro con il liceo, un proseguimento di quelle che è stato diciamo i protestanti in libertà. Abbiamo dedicato il primo a Lombardini, il secondo a Gervis e in realtà appunto nel 22-23 poi c'è stato il viaggio della memoria, ci sono state altre cose per cui si è rimandata la realizzazione di questo lavoro che appunto abbiamo deciso essere il terzo capitolo di protestanti in libertà interamente dedicato a lei perché appunto quest'intervista che aveva rilasciato era ricca infinitamente di spunti oltre alla carta di Chivasso di cui oltretutto parla anche il professor Filippo Maria Giordano all'interno del docufiline è stata fatta un'intervista perché lui è un storico assolutamente molto esperto di questa tematica dell'europeismo, del federalismo in generale Certo, insomma Giovanna Pons una donna oltre che estremamente intelligente e anche volenterosa fino all'ultimo è diventata pastora già quando era in età più avanzata l'avrebbe voluto forse fare già da prima, anzi voleva forse farlo già prima non era consentito il ministero femminile quando lei appunto ebbe l'intenzione di studiare la facoltà ma lo fece poi dopo e diventò pastora Lo fece durante, lo studiò durante la sua prima carriera di professoressa di matematica e fisica e poi nell'81 all'età di 53 anni fu consacrata pastora valdese impegnata in vari ambiti Riprendendo quello di cui parlavi prima appunto nella realizzazione del film poi appunto Giovanna nell'ultimo anno è stata ospite all'asilo valdese di Luserna San Giovanni e io tutte le domeniche durante la lavorazione appunto del film andavo e lei ha partecipato in maniera assolutamente attiva entusiasta per cui guardava il girato lo commentavamo, dava spunti, suggerimenti perché poi ricordi che poi lei ha scritto in diverse occasioni ma un conto è scrivere, un conto è poi invece perché il nostro lavoro come chi ha visto i precedenti docufilm sono appunto questa bella intervista di Giovanna inframmezzata da diciamo fiction ricostruzioni ricostruzioni fiction infatti appunto con gli studenti per cui si tratta di poi far vivere questi ricordi anche a livello di immagine e quindi ma Giovanna ma ti ricordi come era sistemata la stanza o come portavi i libri a scuola e la cartella insomma tutta questa ricerca certo che a differenza degli altri due docufilm che hai seguito e che avete fatto con il liceo questa volta perché insomma gli altri due Jacopo Lombardini e Willy Gervis non avete potuto confrontarvi giustamente con loro invece con lei oltre alla documentazione disponibile c'era proprio il suo vivido ricordo assolutamente questa è stata un'esperienza bellissima sia per noi che per lei che era veramente molto molto contenta ovviamente di tutto questo lavoro è riuscita a vederlo finito ma purtroppo non è riuscita a partecipare a quella che sarà appunto la proiezione in realtà avevamo già fissato la data del 31 maggio come replica serale aperta al pubblico proprio come debutto diciamo del film ma sapendo che comunque lei avrebbe avuto difficoltà comunque a spostarsi di sera ne avevamo organizzata un'altra a casa sua cioè all'asilo all'asilo con grande diciamo partecipazione e felicità da parte della insomma della direzione del comitato insomma tutti molto contenti e infatti abbiamo deciso che comunque in sua memoria lo presentiamo in entrambe le le occasioni e e l'applaudiremo certo certo assolutamente allora guarda visto che hai accennato a questi due appuntamenti li ricordo il 29 maggio però immagino sia una cosa forse un po' più interna all'asilo o è possibile anche la partecipazione magari numeri più limitati più ridotti però poi informatevi dell'asilo valdese di Luzerna San Giovanni sì al pomeriggio questo appuntamento alle 15.30 nel salone dell'asilo valdese sarà appunto presentato il docufilm Giovanna Pons Protestanti e Libertà e poi c'è la serata aperta al pubblico di presentazione ufficiale a Torre Pelli c'è la galleria d'Azeglio anche in questo caso è gradita la prenotazione perché se va come le altre volte insomma il tutto esaurito si raggiunge in fretta esatto poi saranno previste sicuramente altre altre repliche altri appuntamenti sarà presentato come gli altri a diversi concorsi insomma cercheremo di di divulgare il più possibile una testimonianza veramente molto importante era molto importante il fatto che lei fosse in vita perché oramai appunto diventano sempre più meno sempre di meno le persone che possono testimoniare davvero e lei l'ha fatto proprio al limite e questa testimonianza che abbiamo raccolto che insomma ci fa molto molto piacere il fatto di poterla divulgare il più possibile è stata anche proprio un po' una promessa che le ho fatto certo so che siete già stati anche a Roma avete avuto occasione di parlarne anche a Roma con il liceo proprio vero debutto in realtà c'è già stato il 9 di maggio che tra l'altro la giornata è dedicata proprio all'europeismo alla Università Link di Roma dove insegna appunto il professor Filippo Maria Giordano dove hanno è stata appunto organizzata questa giornata per il federalismo europeo con diverse attività la mattina per gli studenti e poi nel pomeriggio è stato presentato il docufilm insieme anche a quello di Gervis che ha raccolto ovviamente molto insomma è stato un vero successo e hanno partecipato appunto un gruppo di studenti che venivano da Napoli da una cioè nostri studenti del liceo ma che avevano fatto una gita a Napoli hanno allungato facendo qualche giorno a Roma e partecipando a questa a questa manifestazione in realtà a Roma c'erano solo due dei ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione del docufilm e tutti gli altri saranno sicuramente presenti invece venerdì 31 allora io rinnovo ovviamente l'invito a cogliere questa occasione la presentazione di questo nuovo lavoro un lavoro importante al di là poi insomma delle tematiche sempre attuali e sempre importanti da ribadire ma un lavoro di testimonianza importantissimo quello che si può avere grazie a questi docufilm perché si fissa una memoria che poi rischia di andar persa e che quindi insomma più materiali di raccolta di ricordo ci sono e meglio è sì e poi soprattutto anche qua nel senso che il nostro lavoro con gli studenti è anche rispetto proprio alla valorizzazione del nostro territorio quindi personaggi noi abbiamo vie intitolate a Gervis a Lombardini Giovanna veniva da Chivasso ma comunque negli ultimi anni a Luserna diciamo che è stata ha insegnato anche a Torrepellice ha insegnato anche al liceo valdesi di Torrepellice negli anni 60 e quindi comunque diciamo che sicuramente poi gli ultimi anni era residente qui quindi insomma è comunque un personaggio della nostra terra quindi l'invito appunto è di partecipare a questi due due primi momenti poi ce ne saranno anche altri come ci accennava anticipava Anna di sicuro e quindi il 29 pomeriggio Asilo Valdese di Luserna San Giovanni e poi il venerdì sera il 31 maggio a Torrepellice alla Galleria Scroppo in Via d'Azeglio per la presentazione di questo nuovo lavoro del gruppo teatro del liceo valdese con la regia Diana Giampiccoli Giovanna Ponce Protestanti e Libertà grazie per essere stata con noi grazie Anna e buon lavoro a te agli studenti alle studentesse che hanno partecipato a questo lavoro e fatene tanti altri insomma che ci farà piacere presentarli grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti